Andrea Righini, dopo il rinvio della partita di Reggio Emilia inizia il periodo clou, quello forse della verità. Sì, abbiamo un ciclo di partite importanti dove non dico che si deciderà il campionato, però insomma una buona parte del campionato lo decideremo in queste 3-4 gare, dove affronteremo il Ponte d'Era, la propria scienza già domenica e poi verrà lo scontro con l'Ascoli. Dobbiamo cercare di fare bottino pieno perché se vogliamo raggiungere l'obiettivo sono partite da vincere. Ascoli al comando, tutti guardano l'Ascoli, però là davanti ci sono tante squadre, tutto in pochi punti. Sì, è vero, noi facciamo riferimento solo all'Ascoli, però anche il Teramo, la stessa Reggiana e l'Apila che deve recuperare due partite sono squadre che sulla carta sembra che non ti diano fastidio, ma invece sono lì, quindi vuol dire che hanno qualità anche loro, quindi dovremo stare attenti anche a loro, però sicuramente la cosa principale sarà prima di tutto guardare a noi.